Ciao amiche e ciao amici, quando è meglio chiudere una relazione e rivolgersi altrove? Questo video per rispondere a Francesca che mi segue su YouTube e che ha una relazione con una persona che, diciamo, la cerca prevalentemente da un punto di vista sessuale, ma non vuole coinvolgersi. Ora, ci sono persone, soprattutto appunto le persone iperlogiche di cui ho trattato, che hanno difficoltà a lasciarsi andare, che hanno difficoltà a coinvolgersi e comunque per coinvolgersi hanno bisogno di una forte motivazione anche logico-razionale, cioè hanno bisogno di vedere che l'altra persona corrisponda a tutte le caratteristiche che loro reputano idonee per avere una relazione. Ognuno di noi, diciamo, a livello logico-razionale ha un'immagine mentale della persona che potrebbe essere la persona giusta per lui, soltanto che le persone molto puntigliose hanno difficoltà perché hanno una sorta di perfezionismo per cui vanno sempre a cercare dei difetti fondamentalmente nell'altra persona e tendono a vivere le relazioni soprattutto su un piano sessuale, vivendosi l'emozione nel momento, ma hanno difficoltà poi a mettere in atto una progettualità proprio perché, diciamo, in qualche modo si rendono conto che l'altra persona comunque non è la persona giusta per loro. Allora, in questi casi, se il tuo obiettivo è quello di costruirti una relazione stabile con un progetto di vita in qualche modo in comune, è molto meglio chiudere la relazione perché altrimenti rischi che questa relazione stessa possa diventare una polpetta avvelenata nel senso che nel momento in cui tu vorresti altro però accetti questo la tua parte emotiva si aggancia sul fallimento. Inizia a dire, oh, allora, vediamo un po', lei vuole questo ma si è contenta di quest'altro per cui esiste una distonia, diciamo così, una differenza tra ciò che vuole e tra ciò che ha e proprio questo diventa l'alimentazione emotiva per cui alla fine entri in un loop in cui non riesci più a uscire fuori per cui in questo momento se il tuo obiettivo è quello di avere una relazione stabile con una persona di questo genere devi renderti conto che è praticamente molto difficile o comunque le energie che dovessi sprecare rispetto alle probabilità sono molto alte cioè energie alte, probabilità basse per cui è molto meglio chiudere subito la relazione. D'altra parte tieni conto che chiudendo e restando irremovibile, diciamo, hai anche la possibilità di far vivere un abbandono, un rifiuto per cui eventualmente potresti stravolgere la cosa, nel senso che se poi lui ti viene a cercare a quel punto lì però devi mettere il vincolo, devi mettere dei vincoli cioè formalizzare la situazione, che ne so, una relazione alla luce del sole insomma devi mettere delle situazioni. Se non accade è molto meglio che guardi altrove perché significa che quella miniera per te è una miniera dove non c'è oro per cui è inutile stare a scavare se la vena d'oro non c'è, è molto molto meglio cambiare miniera e va fatto anche abbastanza rapidamente altrimenti, ripeto, rischia di diventare una polpetta emotiva avvelenata. Bene, per questo video è tutto se vorrai anche tu ricevere un video di risposta devi iscriverti al canale e poi potrai fare un commento nei post un commento ai video, fare una domanda e riceverai un video di risposta servizio gratuito solo per gli iscritti al canale e ti chiedo anche se questo video ti è piaciuto di condividerlo nei social ai quali partecipi Facebook, Twitter, Youtube e quant'altro Per questo video è tutto, ciao!